Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione del nostro telegiornale dedicata alle notizie dal Pordenonese. Cominciamo proprio da Pordenone dove il comune chiude una vertenza e risarcirà una cittadina che era caduta per strada. Si chiude con un risarcimento di 8200 euro il procedimento contro il comune aperto in seguito a una caduta in strada da parte di una cittadina pordenonese. L'incidente risale al 26 maggio 2020. La signora era inzampata e caduta rovinosamente a terra mentre costeggiava il liceo Grigoletti sul lato che lo separa dal parco San Valentino e dal quartiere residenziale limitrofo. La signora era caduta a causa di un abballamento del manto stradale per cui aveva deciso di presentare una richiesta di risarcimento al comune di Pordenone. Il broker assicurativo del comune non aveva ritenuto di rispondere alla richiesta risarcitoria così la cittadina aveva deciso di fare causa chiedendo un risarcimento di 22.603 euro. Il giudice del tribunale di Pordenone ha però stabilito un concorso di colpa da parte della signora ordinando alle parti di mediare sulla richiesta di risarcimento individuando come somma equa 9.600 euro. La trattativa è partita e alla fine il comune e la signora si sono accordati per un risarcimento di 8.200 euro. Di questi 3.000 saranno a carico del comune in quanto somma prevista quale franchigia nella polizza assicurativa mentre la restante parte sarà corrisposta dal broker assicurativo del comune. Parliamo di viabilità. Sono tre le rotatorie di imminente realizzazione lungo il tratto della statale Pontebana che attraversa i comuni di Pordenone e Porcia. Il punto della situazione. Le rotatorie che in un breve arco di tempo saranno realizzate nel tratto urbano della statale 13 fra i comuni di Pordenone e Porcia. Per due di esse l'iter è già piuttosto avanzato mentre la terza dovrà attendere un po' di più. A fare il punto sulla situazione è stata recentemente in consiglio comunale l'assessore alla mobilità del comune di Pordenone Cristina Mirante. La prima e più attesa rotonda si trova in realtà sul territorio di Porcia ed è quella che vede l'intersezione della Pontebana con le vie Gabelli, Grigoletti e Brentella. L'intervento ha una storia lunga e travagliata. Un primo progetto che prevedeva la realizzazione di una doppia rotatoria è stato bloccato e rivisto dall'attuale amministrazione guidata dal sindaco Marco Sartini in accordo con il comune di Pordenone. Al suo posto la soluzione di un'unica grande rotonda con un diametro di 50 metri per uno snodo che vede il passaggio di un massimo di 34.000 auto al giorno. Il cambio di rotta ha tuttavia incrementato i costi e allungato i tempi, anche perché per realizzare la rotatoria unica sarà necessario effettuare degli espropri. L'iter è attualmente nella fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, la valutazione ambientale strategica. La seconda rotatoria di competenza del comune di Pordenone è quella fra la Statale 13, via San Daniele e via Interna. Un'altra opera strategica per superare un incrocio semaforico complesso e il cui iter è già avanzato. Per la terza rotatoria, quella fra la Pontebana, via Del Troio e via Castelfranco, bisognerà attendere. L'opera, ha spiegato l'assessore, è prevista dagli strumenti di programmazione del comune, ma per mettere mano a quell'incrocio occorrerà attendere che le altre due rotonde siano completate, sia per non sovrapporre interventi di grande impatto sulla viabilità della grande arteria, sia per valutarne gli effetti sul traffico. Fino ad allora il rischio sarebbe quello di ottenere i relativi finanziamenti e di non riuscire a impiegarli per tempo, o di vedere intanto lievitare i costi, come sta accadendo in questo momento per molte opere pubbliche. Spostiamoci ora ad Aviano per le prossime amministrative. Tra i due schieramenti del centrodestra e centrosinistra avanza il gruppo di Facciamo Futuro, che a due mesi dalle elezioni non ha ancora chiarito la sua posizione. A parlarne l'assessore comunale Danilo Signore. Anche nel comune di Aviano il prossimo 12 giugno si andrà al voto. Per il momento sembra profilarsi la classica sfida a due tra il sindaco leghista uscente Ilario De Marco Zompit e la segretaria cittadina dei DEM Angela Tassà Mangina, che siede ai banchi dell'opposizione. Tuttavia nel mezzo cammina il gruppo di giovani di Facciamo Futuro, che a due mesi dalle elezioni non ha ancora rivelato il suo ruolo, se proporsi come una terza coalizione o appoggiare uno dei due schieramenti. Sulla questione si è espresso l'assessore comunale Danilo Signore, che alle elezioni parteciperà con una lista civica a sostegno di De Marco. Mi pare veramente un progetto che merita sicuramente il rispetto, ma che mi dà l'impressione di essere un progetto probabilmente nato come antagonismo a quelle che sono le attuali composizioni ben definite. Però l'antagonismo va bene se è ben strutturato, perché ricordiamoci che amministrare non è così semplice, cioè tutti possono amministrare ma ci debbono essere delle basi di competenza e anche di continuità, aggiungo io, perché ricordo che la nostra coalizione, quella di centrodestra che attualmente amministra, ha messo in piedi tantissime opere che hanno necessità di essere seguite da chi li ha messo in piedi. E quindi la continuità amministrativa in un comune, oggi come oggi è indispensabile, ancora di più nel momento in cui ci sono anche difficoltà economiche con i forti aumenti dei costi delle materie prime. Inaugurato a San Quirino, in provincia di Pordenone, il centro di documentazione e catalogazione della flora e della fauna dei Magredi, una struttura polifunzionale immersa nel verde, nata per far conoscere le praterie dei Magredi, un ecosistema unico in Europa. A San Quirino, piccolo comune in provincia di Pordenone, è stata appena inaugurata una struttura che aspettava da tempo di vedere la luce e che adesso è finalmente realtà. Si tratta del centro di documentazione e catalogazione della flora e della fauna dei Magredi. Il taglio del nastro del centro, che si trova nel Parco Brolo, a due passi da Villa Cattaneo, si è svolto sabato 9 aprile alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zagner. A fare gli onori di casa, il sindaco Guido Scapolan, che da assessore ai lavori pubblici della passata amministrazione, ha seguito da vicino il completamento dei lavori del progetto nato nel 2007 sulla spinta dell'allora sindaco Corrado della Mattia. Non un iter semplice, visto che i lavori iniziati solo nel 2012 sono stati poi interrotti per molti anni, riprendendo nel 2019. La struttura si estende su 1.500 metri quadrati, di cui solo un migliaio, della sala polifunzionale, che sarà divisibile in tre aree, tra spazi per uffici o archivazione e ricerca. Nel parco e all'interno si possono ammirare fino al 26 aprile anche le sculture della mostra dell'artista Roberto Raschiotto. Il centro è stato aperto al pubblico martedì 12 aprile, con un corso teorico e pratico per walking leader, parte del progetto Friuli Venezia Giulia in movimento, 10.000 passi di salute. È costata poco più di 3 milioni di euro, dovrà essere utilizzata in maniera trasversale per tantissime altre funzioni, eventi, attività sociali, culturali, con le scuole. Deve avere una funzione anche didattica per far conoscere il nostro territorio, della flora e della fauna e il biotopo di San Quirino dei Magredi. È una struttura che personalmente è fantastica, non è di impatto nel nostro parco Brolo, magnifico parco Brolo, ha queste colonne tonde marroni che richiamano i fusti dei tronchi degli alberi, i sassi dei Magredi come ha detto lei che richiamano proprio il nostro territorio e tanto vetro perché deve perdersi in armonia con il nostro parco Brolo. Ci fermiamo qui, il Tg Pordenone torna domani alle 19.45. Grazie per averci seguito, buona serata. Grazie a tutti.